ciao è iniziato ho capito tra iati al sole della aid academy se vedete l'erba per terra è perché abbiamo iniziato l'art camping il campo estivo per i bambini e abbiamo appena finito una giornata di lavoro sempre mano nella mano una dichiarazione in diretta oggi ci hanno sfidato alla yoga challenge buongiorno ci hanno sfidato alla yoga challenge quindi Agatha sarà dietro la telecamera a riprendere me e Marielina tenteremo di fare delle posizioni delle posizioni di yoga tu che ha scelto Agatha non so immaginare che cosa ha scelto le più difficili sicuramente vedremo per terra quindi Marielina sei pronta? no andiamo? andiamo vai pronti? ciao ragazzi siete pronti? no vediamo si vai pronti allora la prima posizione che ho scelto è una delle più semplici in modo che possiate prendere un po' di confidenza che ha scelto? la posizione che io ho scelto è questa è la più semplice io spingo vi è chiara? allora dai fate i temi tu tecchi no tu sai io salgo tu te sai noi non la faccio guardate guardate io non mi faccio la taglia tu sai si guardo qui no ragazzi dovete provarla eh ma che mica dove vado? vedi che fai se tu ti metti così come faccio? dai fate questo non ci arrivo ma io ti metto così allora vai 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 guarda 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 che facciamo il gioco più giù vai 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 va va Senti un attimo e poi le diamo a te E chi la leva? Vai dietro, vai dietro Beh direi proprio di no Marielle l'è seduta D'accordo la prima è fallita Ragazzi ci siamo Passiamo alla seconda posizione E per favore mettetevi giù La seconda posizione scelta è questa Molto facile Non dite di no Come no? Forza Vi do 5 secondi per iniziare Mi sembra un po' troppo alta con la schiena Marielle No non hai capito Ma sei tu che decidi di farlo stare così Perché non ci va? Ma non ci va Non ci va Ma non ci va Ma non ci va Non capisci Ma devi andare giù con il sedere Non devi andare giù con la testa Non è proprio uguale? Non è proprio uguale Però gliela diamo per buona Dai Siamo alla seconda posizione Già siete morti Sì ma voi ne avete fatto due ancora E siete già stanchissimi No Va bene Allora vi faccio vedere la terza Ragazzi vi faccio vedere la terza posizione Che c'è? Eccola Io sto dietro su sei anni Io sto dietro Io sto dietro Io sto dietro Io sto dietro Io sono brava Io sto dietro Io sono brava Io sono brava Pronti Allora Allora Beh Io ce l'ho facciata Mettiti in posazione Mettiti in posazione Mettiti in posazione Dammi la schiena Da notare che Mariana era da far quelle machini E demi quelle femminili A DINITRA E' un po' di si fa bene No ma lo so Guarda la ditta Metti la ditta Questo Mi la sta sopra Eh sì è stato sotto Ma no Ok è stato qui Dammi la damba Ciao Ciao DENITI Ti è voluto bene Ma l'avanti Ciao Ma l'avanti Ma l'avanti E' vado Ma l'avanti Guarda l'avanti Fita Ma tu senti Senti E' il tempo a sentire Senti Che cosa Oddio 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 Ci vado spigliando C'è Vieni Senti Ecco A me non sembra proprio quella cos'è tanto Per un attimo Niente è fallito Stop Perso Bocca Decibente Siamo pronti per la quarta posizione Che è Ma vabbè Si vabbè Io Allora Allora Anna è in posizione Aspetta Ma Lei mi dà il braccio dietro 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 Secondo te Mi dà il braccio Io ti stavo Io ti stavo No Si Lo che ho detto Fallita anche questa E ci risiamo per la quinta posizione Questa volta sarò brava Ha detto che è tranquilla questa No è tranquilla davvero eh Brava La quinta posizione Eeeh No questa è tranquilla raga Eh Forza 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 Sì Andate che la faccio da noi E' il braccio E' il braccio No E' tutto E' un'era la tela Che passava... Ma che state facendo Ma che state facendo Ehi Ehi Ahi mi manca una e siamo alla sesta posizione che è questa siete in grado di riprodurla? qui c'è sempre il problema del sotto sopra fai l'uomo faccio l'uomo aspetta su su aspetta vai appoggiati questo è il volo dell'angelo la preparazione del volo dell'angelo guarda vieni vieni sto scullando il telefono vieni 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 vai dai dai il problema è Elena che non ha forze guarda adesso Siti vai adesso che ti regge eeeh mi dispiace fallita e siamo alla settima posizione questa questa vi promettiamo che la facciamo 100% ok ecco questa si può fare ce la facciamo sicuro dai io non ce l'ho ma Maria vorrei iniziare così però io non ne ho a destra e vabbè la volta per la volta e pure che l'hai venuto pronti 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 no ma già viva inizia così ma non ci devo qua siiii dai dai e non so se avete visto ma le gambe sotto sono tese eh no la tengo ahahahah vai 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 questa è tesa 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 è tesa no no ci diciamo per la ottava posizione che è questa come stanno si 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 vai her ma cosa è giù è sempre giù maniere mi mettiamo te e non me lo vede non è scatto è cosa io non mi sono muoce ma di cosa è cosa non mi è con me ho è cosa questo è è è è bravo Siamo già in onda, non ha posizione E voilà Ma perché vi siete messi così adesso? Sì, ma tu sei poggiata con la schiena? Ancora? E' fatto! E' vabbè. E siamo all'ultima posizione. A me quella di prima non mi è piaciuta. Pure a me. Non ci interessa. E' questa. Questa la possiamo fare. Aspetta, aspetta. Aspetta. Tu sono tu e io sono. Vai. Vai. E' da. Doi, prima. Pronta? Sprigami! No, si viene. Sprigami! E' qua. Vado l'io. Vai! Non, non, non è mio. Non è mio. Una altra possibilità. con questo challenge sfidiamo mother earth con la figlia dovete fare uno yoga challenge luisa vedete il video tante belle cose